Ristoranti chiusi e voglia di rilassarsi fanno volare il food delivery, ma per uno stile di vita sano è necessario prestare attenzione ad alcuni accorgimenti consigliati dai medici dell'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri. Tra loro il dottor Sergio Segato, direttore della gastroenterologia Varesina. Innanzitutto cibo da sporto non è sinonimo di fast food. Generalmente i cibi pronti sono più ricchi in calorie e meno ricchi di nutrienti rispetto ai cibi preparati a casa. Il loro consumo abituale quindi può comportare il rischio di sovrappeso o obesità. Meglio affidarsi ai ristoranti di fiducia o al cibo preparato con ingredienti semplici. Se non si resiste alla tentazione del fast food è consigliabile rifornirsi da quelle catene che hanno implementato pratiche di promozione della salute. Variare gli alimenti. Non è il singolo pasto che fa la differenza, ma scelte alimentari che siano equilibrate nel tempo. Consumando spesso cibo da sporto quindi è importante variare le ordinazioni. L'obiettivo è ricalcare nel lungo periodo il modello della piramide alimentare della dieta mediterranea. Alimenti ricchi di fibre. Sappiamo che circa la metà delle calorie assunte con l'alimentazione dovrebbe provenire da cibi ricchi di carboidrati. Alimenti integrali come il pane, la pasta e cereali sono importanti per contribuire al nostro fabbisogno di fibre. La frutta e la verdura oltre alle fibre sono fonti importanti di vitamine e minerali. Attenzione al sale. Il contenuto di sale nei cibi pronti è molto più elevato rispetto ai cibi preparati in casa, quindi non andrebbe aggiunto altro sale. Se si sente l'esigenza di insaporire, sono preferibili le spezie. Evitare l'eccesso di alcol. Un bicchiere di vino durante il pasto può essere benefico, come ci ricordano i dettami della dieta mediterranea, ma l'abuso può diventare un nemico del benessere psicofisico, anche se non si deve guidare dopo il pasto. Gli elettrodomestici giusti per riscaldare i nostri cibi sono il fondo a microonde, che è correttamente usato, presenta pochissimi rischi per la salute ed è in grado di preservare i micronutrienti contenuti negli alimenti rispetto agli altri tipi di cottura. Quali precaluzioni per il Covid? Pur sapendo che non esistono il rischio zero in medicina, va detto che non si registrano segnalazioni di contagio attraverso il cibo. È obbligo seguire le raccomandazioni relative al lavaggio delle mani prima e dopo la manipulazione degli alimenti per evitare le contaminazioni, la cottura del cibo dovrebbe eliminare la possibilità del contagio comunque.